Depuratore di Rapallo si è aperto il tavolo di confronto per valutare le sanzioni europee e per capire chi dovrà pagarle. Al momento però tutti si tirano indietro. Inverno da dimenticare per gli impianti di risalita della Val d'Aveto che restano ancora chiusi. La neve continua a farsi attendere, si spera ancora, ma ormai la stagione è compromessa. Appello dei sindacati alle amministrazioni del Tiguglio e del Golfo Paradiso. Quella dei rifugiati è un dramma davanti al quale il territorio non può e non deve tirarsi indietro. Messaggio del Papa per la Quaresima 2017. Il povero che bussa la porta non è un fastidioso ingombro. Ogni vita che ci viene incontro è un dono. Giornata per la vita. Distribuito in diocesi lo stesso numero di vasetti di primule del 2016. Costante l'attenzione alle attività dei centri di aiuto alla vita. Oggi giornata mondiale della sicurezza su internet. Attenzione focalizzata sull'uso della rete nelle giovani generazioni e sul cyberbullismo. Pallavolo. Nel campionato di serie C maschile, l'Admo Volley ha vinto il derby con il Villaggio per 3-1. I lavagnesi in testa alla classifica 30 punti, 3 in più rispetto al Cus Genova. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio. Oggi si è aperto in questi giorni il tavolo di confronto su come e chi dovrà pagare le sanzioni europee per il ritardo nella costruzione del depuratore di Rapallo. La multa sarà divisa in due parti e ammonterà centinaia di migliaia di euro. La scorsa settimana si è svolto un primo incontro per definire la cifra. Ma chi dovrà sborsare i soldi? Per il momento tutti sembrano tirarsi indietro. Sentiamo. Per quanto riguarda il depuratore di Rapallo, c'è un ritardo dovuto a vari motivi, ma nel frattempo stanno arrivando le sanzioni europee? Sì, le sanzioni sono arrivate. Come molti dicevano che non sarebbero mai arrivate di non preoccuparsi, noi invece ci eravamo preoccupati proprio per riuscire a dare delle risposte puntuali. Noi abbiamo invece la sanzione che è arrivata all'Italia. L'Italia, per quel governo, ha spostato per competenza le regioni e le regioni ovviamente in questo caso, la settimana scorsa, la regione Liguria ci ha convocato proprio per definire quali sono gli impianti in sanzione. Quello che è rimasto, avendo inaugurato quello di Recco, avendo inaugurato quello di Santa Margherita, era Rapallo. Rapallo purtroppo è partito a gennaio con grande fatica perché, ricordo qui, oltre ad aver aspettato molto tempo per decidere in quale zona farlo, poi ci sono stati molti ricorsi al Tar. Abbiamo chiuso definitivamente l'anno scorso, l'anno passato, e a gennaio abbiamo iniziato i lavori sul cantiere. Purtroppo la sanzione è arrivata e per cui qui qualcuno dovrà pagare. Ovviamente Rapallo non vuole pagare, regione neppure, città metropolitana neanche, per cui vedremo come riuscire a trovare una soluzione, ma sicuramente si dovrà pagare. Che cosa rischia però Rapallo? Il rischio è che i cittadini si troveranno in bolletta una quota anche di questa sanzione. Come verranno calcolate queste sanzioni? La sanzione è divisa in due parti, una parte fissa, diciamo la multa per intenderci, e l'altra è una sanzione giornaliera. Questa sanzione dovrà essere pagata un anno dopo l'inaugurazione dell'impianto, per cui facendo due conti, finite la conferenza di servizi, ci saranno circa tre anni, due anni per fare l'impianto, per cui Rapallo, in questo caso essendo partito adesso, si prevede l'inaugurazione all'arco di un anno, un anno e mezzo, l'anno successivo, per cui oltre due anni, partendo da oggi, ogni giorno ci sarà una quota che dovrà essere pagata. Intervenuto nel corso di Direttamente Su, il consigliere Pignone ha aggiunto che il comune di Santa Margherita Ligure è uscito dalla procedura di infrazione, mentre quello di Recco attualmente rientra ancora per pochi mesi. Tuttavia la città metropolitana confida che vengano evitate le sanzioni. Si vedrà nelle prossime settimane. Il caso delle tariffe dei biglietti e degli abbonamenti interregionali dei treni, che pare si sia basato per anni su un algoritmo sbagliato, è approdato anche in Regione Liguria. L'assessore ai trasporti Gianni Berrino ha detto di essere pronto a sostenere in sede di conferenza Stato-Regioni le istanze dei pendolari e dei consumatori, che se l'errore dovesse essere confermato, dovranno vedersi riconosciuto un risarcimento equo. Berrino spiega di non accettare strumentalizzazioni né giochi allo scarica barile e garantisce tutto l'impegno per fare luce sulla vicenda. Nonostante le allerta meteo, nonostante i passaggi perturbati che hanno caratterizzato il meteo negli ultimi giorni, la neve in Val Davido si è fatta vedere poco. Qualche fiocco è caduto anche in paese a Santo Stefano, qualche d'uno in più in quota, ma sicuramente non in maniera così abbondante come molti speravano. Restano chiusi infatti gli impianti di risalita per il Prato della Cipolla, il Monte Bue, e sicuramente questo verrà ricordato come un anno nero per la società che attualmente sta gestendo le strutture. Si spera ancora per le prossime settimane, ma ad oggi il bilancio purtroppo è negativo. Queste sono appunto le immagini che si riferiscono al Prato della Cipolla. Come vedete c'è neve, ma non abbastanza da garantire la stagione sciistica. Ma sentiamo su questo tema l'intervista di Andrea Capitani. La stagione sta andando malissimo, la neve non è mai arrivata. Si è fatta vedere un paio di volte, pochi centimetri, per poi puntualmente andare via. Anche questo weekend era prevista delle precipitazioni copiose, ma in realtà ne è arrivata poca, poca, poca. Siete in difficoltà comunque nella gestione proprio della struttura, degli impianti, rifugio e quant'altro? Sì, ci metto in difficoltà una situazione del genere, anche perché comunque noi quando abbiamo preso gli impianti abbiamo promesso una serie di investimenti notevoli al Comune e li stiamo portando fin finino avanti. Noi avevamo preparato rifugio alla cipolla, avevamo rimodernato, cercando anche un po' di migliorare la fruibilità e purtroppo non abbiamo a utilizzarlo, se non per pochi sparuti turisti che sono saliti a piedi. Inizierà adesso comunque un confronto con l'amministrazione perché comunque venirsi incontro di fronte a questa situazione non positiva? L'amministrazione comunque ci è sempre stata vicina e ci è vicina quotidianamente e sicuramente ci incontreremo per analizzare la situazione e vedere cosa si può fare per evitare di trovarci in difficoltà nei prossimi anni o comunque come poter intervenire. Comunque tante persone hanno continuato a garantire il servizio nonostante appunto questa carenza di neve. Sì, il servizio è sempre garantito, oggi sono aperti quando decidiamo di aprire le dati prestabilite e non appena arriva la neve gli impianti apriranno e onoreremo pieno il nostro impegno in inverno. Già per quest'anno abbiamo pensato di aprire un giorno in più ogni weekend e una settimana in più a cavallo del carnevale. dovesse arrivare la neve e fare due settimane di sole per il tempo e per tanta gente sarebbe comunque migliorativo rispetto alla situazione attuale. Riusciremo a salvare i salvabili diciamo. I prossimi giorni sarà a San Valentino o avete pensato proprio a qualcosa di speciale per le coppie che vorranno passare qualche giornata a Santo Stefano? Si prevede comunque la cena in quota e il raggiungimento in quota non tramite gli impianti che non sono adibiti al esporto serale, ma insieme tramite le ciaspole. Cronaca, un uomo di 72 anni è caduto dalle fasce in località Missano a Castiglione Chiavarese. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto la locale Croceverde che ha trovato l'anziano in condizioni fortunatamente non gravi era cosciente. È stato disposto il trasferimento in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova. Da qualche tempo il Radioclub Elevante riceve segnalazioni da parte di cittadini residenti in Val Graveglia e in Val Fontanabuona secondo cui una persona suona alle porte delle case spacciandosi per un volontario di protezione civile e chiede denaro per una raccolta finalizzata all'acquisto di un defibrillatore. Spesso si rivolge ad anziani riuscendo a confonderli per farsi dare somme anche di una certa rilevanza. Radioclub Elevante e le altre associazioni di protezione civile della zona non hanno autorizzato alcuna raccolta del genere. Dunque chi ricevesse la visita di questa persona deve chiamare subito le forze dell'ordine. Cambiamo tema. Il Tiguglio può e deve fare di più in materia di accoglienza dei rifugiati. È l'appello lanciato dai sindacati alle amministrazioni locali. Quella davanti alla quale ci troviamo è una vera e propria emergenza alla quale siamo chiamati tutti a rispondere. Dicono i sindacati. Sentiamo. Il Tiguglio e il Golfo Paradiso dimostrano grande solidarietà quando succedono le grandi catastrofi nel nostro paese, alluvioni, terremoti. Noi crediamo che questa dei migranti sia una vera e propria catastrofe anche questa. Da questo punto di vista chiediamo quindi al territorio di avere la stessa solidarietà. Un appello alla politica affinché faccia capire al territorio come quello dei migranti sia un dramma per il quale anche il Tiguglio può rispondere nel solco della solidarietà che già in altre occasioni ha saputo tracciare e non un problema o peggio un'invasione davanti alla quale erigere muri e chiusure. È quello lanciato dai sindacati confederali, CGL e Cislewil, che insieme ribadiscono come l'emergenza del territorio siano la disoccupazione giovanile e una popolazione sempre più anziana e non l'accoglienza dei 656 persone che fuggono da guerre, regimi dittatoriali e persecuzioni. Diciamo che 656 persone come tetto massimo su 180.000 abitanti ci sembra una percentuale veramente esigua e sopportabile da parte del territorio. È per quello che CGL, Cislewil chiedono ai comuni di fare uno sforzo dal punto di vista proprio dell'accoglienza e della solidarietà. Attualmente sono 203 i richiedenti asilo ospitati in sette comuni del Tiguglio e del Golfo Paradiso. Alle loro spalle quasi sempre situazioni drammatiche e disperate. Delle persone che vivono dei drammi familiari, mariti che hanno lasciato mogli, mogli che hanno lasciato mariti, spesso anche figli, hanno lasciato affetti per scappare da guerre. E quindi si tratta di persone che stanno non clandestini, che sono in attesa di venire accolti in Europa come richiedenti asilo oppure già persone che addirittura sono già veri e propri esiliati e profughi. La bacheca dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani di Chiavari è stata danneggiata da vandali ignoti. Le organizzazioni sindacali esprimono solidarietà all'Ampi, al presidente Roberto Casman e chiedono al comune di Chiavari di intervenire per tutelare il decoro dell'aria. Siamo all'informazione religiosa. Ogni vita che ci viene incontro merita accoglienza, rispetto e amore, soprattutto se è debole. Così il Papa nel messaggio per la Quaresima 2017 sul tema «La parola è un dono, l'altro è un dono». Francesco esorta in questo messaggio a non essere prigionieri del denaro e nel testo, reso noto oggi, l'invito di Francesco è quello di seguire la parola di Dio, forza viva, capace di suscitare la conversione dei cuori verso i nostri fratelli di servizio. Il denaro può arrivare a dominarci, così da diventare un idolo tirannico. Nel messaggio per la Quaresima il Papa esorta a non essere prigionieri dei soldi, che non lasciano spazio all'amore e ostacolano la pace. Francesco invita poi a riscoprire il volto dell'altro, che è sempre un dono e mai un fastidioso ingombro, anche quando bussa la nostra porta. Ogni persona è un dono, sia il nostro vicino, sia il povero sconosciuto. La Quaresima 2017 inizierà il primo marzo con la liturgia del mercoledì delle Ceneri. È un nuovo inizio, spiega il Santo Padre, una strada che conduce verso una meta sicura, la vittoria di Cristo sulla morte. Un tempo che rivolge un forte invito alla conversione, spiega Francesco, per non accontentarsi di una vita mediocre, ma per crescere nell'amicizia con il Signore. Cuore del messaggio è la parabola dell'uomo ricco, che è senza nome, e del povero Lazzaro, che invece ha tratti precisi e una storia personale. Ci aiuta ad aprire gli occhi per accogliere la vita ed amarla, anche quando si presenta sotto le mentite spoglie di un rifiuto umano, spiega il Papa. La Quaresima è dunque un tempo propizio per aprire la porta ad ogni bisognoso e riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo. Ognuno di noi ne incontra sul proprio cammino, prosegue il Pontefice. Ogni vita che ci viene incontro è un dono e merita accoglienza, rispetto e amore. La parola di Dio aiuta ad aprire gli occhi per accogliere la vita ed amarla, soprattutto quando è debole. Il Vangelo del ricco e del povero Lazzaro aiuta a prepararci bene alla Pasqua che si avvicina. La liturgia del mercoledì delle ceneri invita a vivere un'esperienza simile a quella che fa il ricco, in maniera molto drammatica. Il sacerdote, imponendo le ceneri sul capo, ripete le parole «ricordati che sei polvere e in polvere tornerai». Il ricco e il povero, infatti, spiega Francesco, muoiono entrambi e la parte principale della parabola si svolge nell'aldilà. I due personaggi dunque scoprono improvvisamente che non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare via. In Repubblica Centroafricana si assiste ancora una volta a nuove tensioni. Nei giorni scorsi alcuni gruppi ribelli hanno attaccato una città al confine con il Chad, Boccaranga, uccidendo 18 persone, dati alle fiamme camion, case e 35 negozi di commercianti. A salita anche la missione dei padri Cappuccini. Sulla questione è intervenuto il Cardinal Zapalanga, arcivescovo di Bangui, che ha detto «è chiaro che la religione è stata la maschera per occultare la realtà, ossia lo sfruttamento illegale dei giacimenti di diamanti». Il pensiero è stato condiviso anche dall'imam della moschea di Bangui, che ha spiegato «istigano la guerra religiosa per nascondere lo sfruttamento fraudolento delle enormi risorse minerarie del paese». Le suore Clarisse di Buar e le loro consorelle di Leivi chiedono a tutti di ricordare il Centroafrica nelle proprie preghiere. E ora parliamo della giornata per la vita che si è celebrata in tutta Italia nella prima domenica di febbraio. Nonostante il giorno piovoso, in diocesi è stato distribuito lo stesso quantitativo di Primule del 2016, segno di un'attenzione costante all'attività dei due centri di aiuto alla vita di Rapallo e Chiavari e degli sportelli di Santa Margherita Ligure e Sesti Levante, impegnati ad aiutare, accogliere e sostenere le mamme che si trovano in una situazione di difficoltà. Sentiamo. Come ogni anno in occasione della giornata per la vita vengono offerte le Primule, come siete organizzati a Sesti Levante? Sesti Levante siamo organizzati penso in modo abbastanza semplice, cioè ogni parrocchia distribuisce le Primule che non vogliono essere una vendita ma un'offerta proprio per poter comprare latte e pannolini. Perché tutto ciò che riguarda beni materiali, passeggini, carrozzini, vestiario, sono dati spontaneamente e abbiamo anche il sovrappiù. Il CAV ha bisogno soprattutto di latte e pannolini, quindi è possibile continuare a fare offerte per queste finalità? Sì, certamente. Cioè il motivo principale del CAV è quello di accogliere e di sostenere le mamme in gravidanza. Però anche loro hanno bisogno di mezzi materiali, nel senso tutto ciò che riguarda il bambino e soprattutto noi utilizziamo tantissimi soldi per comprare proprio questi generi di prima necessità. Ciascuna mamma che viene porta con sé tutte le sue difficoltà e a volte anche la sua gioia, ecco nonostante si trovi tanto spesso in condizioni un po' disagevoli. In generale l'esito è felice, cioè riuscite ad aiutare le mamme ad accettare la gravidanza? Ma molto spesso sì, poi purtroppo ci sono anche quelle che non sappiamo poi come vadano a finire la situazione, come finisca così. Però abbiamo molte esperienze di mamme che sono riuscite a portare avanti la gravidanza solo anche per il sostegno non solo economico ma anche proprio di supporto, di aiuto, di cercare proprio di voler loro bene e loro si sentono accolte e quindi sono felici poi di accettare perché non ci sono mai mamme che si sono dispiaciute, che sono proprio rimproverate di aver portato avanti una gravidanza anche con tante difficoltà. Cerchiamo noi di non lasciarle sole. Venerdì prossimo, 10 febbraio, sarà effettuata una raccolta straordinaria di indumenti per il guardaroba cittadino di Chiavari. Dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20 si potranno conferire abiti in buono stato, puliti, non più utilizzati da donare a chi ne ha bisogno. Gli indumenti saranno controllati al momento prima di essere ritirati per motivi di igiene e di smaltimento dei rifiuti. Cambiamo tema, tra molti ragazzi c'è ancora poca consapevolezza di quanto attraverso internet e i social media possano essere veicolati messaggi di odio. Oggi in tutto il mondo si celebra il Safer Internet Day 2017 e in Italia l'attenzione è concentrata soprattutto sul cyberbullismo, il servizio della Radio Vaticana. Due dati su tutti, l'11% dei giovani approva gli insulti sui social, il 13% dichiara di aver insultato un personaggio famoso online, un esempio di come proprio attraverso i ragazzi sia necessario far passare una maggiore consapevolezza dei social media e più in generale del potere di internet. Per questo il ministero della pubblica istruzione per il 2016-2017 ha stanziato 2 milioni di euro in formazione. Sono stati interessati 200 mila tra studentesse e studenti, 20 mila docenti. Il problema c'è, solo comprendere anche che il problema non può essere risolto solo con l'impegno della scuola. La scuola deve fare la propria parte e la sta facendo, ma non da sola e quindi occorre ritornare ad avere quell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, tra insegnanti e genitori. I ragazzi hanno una confidenza massima con i social, quasi l'81% usa Whatsapp per scambiarsi messaggi, il 77% Facebook e il 62% Instagram. Ma non di rado l'utilizzo è quasi patologico, infatti il 40% dei ragazzi tra i 14 e 18 anni dichiara di trascorrere online più di 5 ancora al giorno. La tutela dei dati è fondamentale. Noi a breve in Italia dovremmo introdurre tra le nostre regole quelle che riguardano la privacy e l'utilizzo dei dati raccolti online che sono stati definiti a livello europeo, sarà molto importante focalizzare in particolare queste regole per quanto riguarda l'utilizzo dei dati che provengono dai minori, cioè dai ragazzi e ragazze che usano la rete, che condividono informazioni sulla rete e dobbiamo capire quale uso poi viene fatto di questa grandissima mole di dati che si ritrova alla fine raggiunta tramite appunto la rete internet. Nei giorni scorsi a Genova e in provincia la Guardia di Finanza ha ispezionato 22 imprese, in 8 di queste ha scoperto 15 lavoratori in nero, 5 di loro erano impiegati in un bar, 4 in due attività di frutta e verdura, 3 in due ristoranti, 2 persone in altrettanti negozi di abbigliamento e una persona in una panetteria. La cooperativa agricola Lavagnina sta organizzando un corso per il rilascio del patentino necessario per l'acquisto e l'utilizzo dei fitofarmaci. Il corso si terrà nei locali della cooperativa agricola a Lavagna in via Santa Giulia. Per contatti e informazioni dovete chiamare lo 0185 39 14 97. Siamo così alla pagina culturale, intanto ricordiamo che domani, mercoledì, gli studenti del carcere di Chiavari, scritti ai corsi dell'Istituto Giovanni Caboto, incontreranno il cantautore Roberto Frugone. L'incontro è teso a lavorare sulla musica e sui testi che i detenuti presenteranno al Festival della Parola e alla preparazione del concorso di poesia Aldamerini. Roberto Frugone, lo ricordiamo, è un cantautore, autore, compositore e arrangiatore, si occupa di animazione socioeducativa con giovani, anziani e disabili. Ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace, vediamo così tutti gli altri appuntamenti per la giornata di domani, poi ci ritroviamo con lo sport. Appuntamenti in agenda per mercoledì 8 febbraio. Le testimonianze di alcuni deportati genovesi saranno al centro dell'incontro che si terrà alle 10 nella sala consigliare della città metropolitana a Genova, conclusione ideale delle celebrazioni in occasione della giornata della memoria. Si tratta di un appuntamento organizzato dalla locale comunità ebraica. I nuovi orizzonti del multiculturalismo e la fine del pluralismo liberale è il tema della lezione che Dino Cofrancesco terrà alle 16 a Rapallo nei locali di Villa Queirolo, è uno degli incontri dell'Accademia Culturale. Lezione di archeologia ai corsi di cultura di Chiavari, interverrà Giorgio Bo che affronterà il tema Le città che hanno fatto la storia, appuntamento alle 16.10 nella sede di Via delle vecchie mura. Susanne Branciforte, esperta nell'insegnamento della lingua italiana per stranieri, è la relatrice del nuovo incontro inserito nell'ambito della programmazione dell'Associazione Italo-Britannica di Chiavari. Interverrà alle ore 17 nei locali della società economica. Infine ricordiamo che domenica 12 febbraio Enjoy Genova organizzerà una visita alla città di Sesti Levante e al Museo archeologico di Palazzo Fasce. L'inizio è previsto alle 15, occorre prenotare però chiamando il 335-1278-679. È un'iniziativa organizzata in collaborazione con la cooperativa Terra Mare. Ed eccoci alla pagina dello sport. Parliamo di pallavolo. Nel campionato regionale maschile di Serie C si è disputato il derby nella palestra del centro Benedetta Acquarone tra Tre Stelle, Villaggio San Salvatore e Admo Volley Lavagna. La squadra ospite ha vinto 3-1. Admo in vetta alla classifica del Girone ha 30 punti, tre in più rispetto alla diretta inseguitrice Cus Genova. Ma sentiamo le interviste a fine gara. Tre punti molto importanti, tre punti per rimanere in vetta alla classifica. Sicuramente il derby è sempre una partita particolare, era una partita anche con in campo parecchi ex, parecchi dei ragazzi che oggi abbiamo affrontato. L'anno scorso militavano nella nostra formazione. Siamo partiti benissimo, oggi i ragazzi erano concentratissimi, sapevano che era una partita importante, sapevano della partita giocata a Genova dal Cus vinta 3-0, quindi un po' di pressione sicuramente c'era. Dopo due set giocati secondo me in maniera perfetta, abbiamo avuto un calo solo di tensione nel terzo. Poi nel quarto ci siamo un attimino guardati negli occhi e abbiamo evitato di fare errori che magari in passato abbiamo anche fatto. Sicuramente è un altro passo verso un traguardo importante. Che aria si respira nello spogliatoio, visto che siete al comando della classifica? So che c'è un clima un po' teso perché ve la state giocando di nuovo la promozione quest'anno. Il clima è buono, visto che ce la giochiamo. Speriamo di fare meglio sicuramente dall'anno scorso, visto che ce la giochiamo di nuovo col Cus Genova e stavolta speriamo di passarla a noi. Una partita difficile, si aspettava di più dai suoi giocatori? No, secondo me i nostri giocatori hanno dato il massimo, visto le condizioni in cui siamo, perché abbiamo parecchi infortuni e comunque qualitativamente siamo un pelo sotto. Il derby è sempre il derby, nonostante l'assenza è stata comunque una bella partita, diciamo, no? Sì, hai detto bene, il derby è sempre il derby. A parte il primo set che erano sotto, poi ci siamo difesi e siamo riusciti a portare via un set e per questo per noi è un buon risultato. C'è anche un atleta della Virtus Entella tra i convocati per l'amichevole in programma martedì 14 febbraio allo stadio Curi di Perugia, che vedrà in campo una rappresentanza della Serie B e la nazionale Under 20. In tutto sono stati scelti 20 giocatori delle annate del 96 e del 97 rappresentativi di 15 squadre della Serie B. Tra questi c'è il centrocampista bianco celeste Manuel Di Paola. La partita avrà inizio alle 12.30. Anche quest'anno la Federazione Italiana Amici della Bicicletta a Tiguglio propone un'escursione su due ruote con connotazione culturale. Domenica 26 febbraio, dopo un viaggio in treno con la bici al seguito, l'associazione raggiungerà Torino e dopo un giro in bicicletta nella capitale Sabauda visiterà la mostra di Toulouse-Lautrec. Per chi lo desidera c'è sia la possibilità di noleggiare la bicicletta direttamente a Torino, sia di effettuare l'itinerario al mattino a piedi. Le iscrizioni si prendono entro lunedì 13 febbraio alla sede di Viale Dante a Sesti Levante oppure chiamando il numero cellulare 339 10 29 558. Lo ripeto, 339 10 29 558. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale, per tutti gli altri aggiornamenti continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Arrivederci.